Assessore Vincenzo Ceccaralli, procedono lavori per la realizzazione della ciclopista dell'Arno nel settore, nell'ambito aretino e è stato firmato un importante accordo per completare il percorso? I lavori stanno procedendo un po' su tutta l'asta dell'Arno, in questo caso abbiamo sottoscritto un'integrazione al protocollo che ci consente di finanziare la progettazione del secondo lotto per quanto riguarda la ciclopista dell'Arno nell'ambito della vallata del Casentino, quindi nel tratto che va da Stia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi e arriva sino a Ponte Aburiano ad Arezzo. Si compone di tre lotti, oltre un primo lotto che è già stato realizzato, il secondo lotto è in fase di appalto e a primavera inizieranno i lavori, con le risorse che andiamo ad assegnare ora a fine anno sarà progettato un ulteriore lotto e poi rimarrà soltanto l'ultimo, quello che da Subiano arriva a Ponte Aburiano. Si tratta complessivamente di un intervento di 4 milioni e 350 mila euro, dei quali 2 milioni e 7 messi a disposizione a stralci da parte della Regione. Quindi i lavori stanno proseguendo, contemporaneamente ai lavori procede anche la progettazione dei lotti successivi. Siamo in linea con quello che era il cronoprogramma che ci siamo imposti, nel frattempo anche i treni nuovi attrezzati per portare più biciclette sono arrivati, quindi direi che le cose stanno andando bene da questo punto di vista. Tra l'altro si parla di ciclopista dell'Arno, proprio in questi giorni la Regione Toscana ha ricevuto un riconoscimento per il lavoro svolto. Sì, è un riconoscimento che ovviamente ha fatto piacere perché è comunque consegnato da un circolo che si rifà all'onorevole Merli, che è stato uno degli antisegnani per quanto riguarda la legislazione ambientale. Il fatto che la Regione sia stata oggetto di un riconoscimento per questo impegno nei confronti della realizzazione ciclopista dell'Arno, ovviamente è un motivo in più che ci sprona ad andare avanti e cercare anche di serrare i tempi per la realizzazione di questa importante ciclopista che vorrei ricordare si aggiunge a tante altre che in Regione Toscana stiamo contribuendo a cofinanziare e che sono in fase di realizzazione o di progettazione.